senza un briciolo di tesla questa volta ci siamo tutti e tre quindi alessandro in extremis però c'è però c'è e andrea naturalmente ciao a tutti però non ci sarà la prossima settimana ve lo diciamo così vi mettete avanti voglio ringraziare tutti i nostri iscritti tutti quelli che ci seguono su youtube nei vari podcast online perché i numeri stanno stanno salendo grazie per ascoltare tre geni della lampada che vi danno informazioni ogni settimana noi proviamo molto più probabile quello che ha detto alessandro però insomma noi ci proviamo e anche questa settimana siamo qui per darvi qualche informazione importante per esempio voglio voglio dare questa news lato performance prestazioni modelle spled è tornata al normal normal ring ecco l'ho detto male sicuro ma è tornata andate a vedere sul canale ufficiale di tesla di youtube il tempo che ha registrato 7 minuti 25 secondi e 231 millesimi ok ha registrato questo valore che è chiaramente inutile dirlo un record per una berlina elettrica la cosa importante è che è stata battuta porsche perché era secondo me quello l'obiettivo andare in germania e battere porsche ce l'abbiamo fatta e è stato interessante il tweet di martin vieca che è il responsabile degli investitori di tesla diciamo le relazioni con gli investitori naturalmente e ha detto ragazzi sapete che i tempi di questa modelle spled al normal ring sono paragonabili a quelli di una ferrari enzo quindi una berlina paragonabile ad una enzo direi che siamo su dei buoni discreti livelli ecco secondo me ditemi voi ma secondo voi sarà l'ultima volta non so se vi ricordate al tempo quando c'era è andata al nurburning e ha battuto la porsche porsche da taikan andava al nurburning e ha battuto la tesla poi andava la tesla e batteva c'è stato un po' di sembrava una serie televisiva no cosa succederà la prossima il prossimo giro l'ultima volta oppure la prossima volta che vedremo una tesla al nurburning provo a rispondere o no provo a rispondere proprio così nel senso che è molto probabile attendersi un arrivo di della rimac ok la famosa super e ultra iper car elettrica la rimac nevera penso si chiami potente tutto quello che volete pensata ecco per aggredire la pista e lì secondo me avremo il nuovo record elettrico proprio importante decisivo a quel punto come dici tu bisognerà aspettare il roadster 2 io ipotizzo un 2025 e poi avremo tutto ma soprattutto la domanda vera è quanto diavolo è lungo quel circuito mamma mia 7 minuti sono tanti 7 minuti non finiva più non finiva più vado a fare un giro al nurburning mezza giornata è lunghissimo 7 minuti fatti più di 7 minuti fatti a una velocità folle se uno vuole andare con la sua auto privata a testarla provarla mamma mia altro che 7 minuti partono 10 minuti lì eh ma tranquilli in pista con la gente che magari dietro ti dà anche un po' di di ansietta però hai nominato la roadster fra hai nominato la roadster vai e la roadster is back la roadster is back in italia is back anche in italia sì in italia hanno riaperto le prenotazioni costano praticamente per notare una roadster costa quasi quanto comprare una model 3 eh sì largo perché ci vuole un trentello però mi ho fatto un po' ridere l'altro giorno perché ho visto un commento su facebook eh il social di noi boomer che eh dove dicevano ah almeno questa è una bella linea mamma mia ancora ancora la model y perché secondo me la model y un pochino goffa la è alla model 3 secondo me è una linea spettacolare ma il fatto che lo dicano il fatto che lo debbano ribadire è sintomo che sotto sotto gli piace anche quel design là ma come fai a proprio a dire una roba del genere è palese che la roadster sia di un'altra categoria ma è una obiettivamente non è un'auto da tutti i giorni come fai a fare un'auto da tutti i giorni con un design aggressivo e affascinante come una roadster 2 come fai? non puoi no ma poi non avrebbe neanche senso ma esatto esatto nasce con con lo scopo con cui nascono le supercar eh per stupire per chi può permettersela per chi non lo so la vuole sfoggiare agli amici poi è chiaro che la la cosa dei dei i razzi hanno hanno speculato sul fatto che i razzi che metteranno dietro saranno quelli gli spacex saranno a gas no come dire eh la tesla a gas no no quello è un gioco ragazzi cioè quella roba lì ma quantomeno da noi non potrà mai essere omologata cioè omologare i razzi cioè voglio vedere al libretto cosa c'è scritto tipo quanti cavalli ha con i razzi e x senza i razzi sul libretto voglio andare in motorizzazione e farmi omologare i razzi vedere cosa dicono voglio vedere la la revisione bisogna fare anche lì la revisione ai tubi di scappamento ai razzi di scappamento certo arrivano gli ingegneri di spacex arrivano lì allora com'era qua la situazione via sì ma a volte la gente che parla di tesla anche comprensibilmente si dimentica che parla di quell'azienda che un giorno ha spedito una roadster nello spazio si attacca dentro un razzo e quando è stato chiesto il perché ha detto ma perché era la roba più pazza che potevamo fare cioè non c'era un vero perché no ma neanche i razzi hanno un vero perché perché quella macchina lì farà meno di due secondi 0-100 ma cosa vuoi fare di più mamma mia ma cosa serve è tutto flexing come si dice no il giorno d'oggi c'è tutta voglia di mostrare i muscoli nei confronti soprattutto dei dei competitors soprattutto di Rimac secondo me in questo caso però insomma già la possibilità secondo me bisogna essere onesti anche qui già la possibilità di portarsi a casa con 250.000 euro una vettura con delle performance che trovi su veicoli da milioni perché parliamo di milioni fra un po' cioè non è da sottovalutare anche quello perché se uno è concentrato sulle performance roadster proprio è la fine cioè è proprio il punto alla fine della frase performance che non è una frase è una parola cioè non è tanto quello che voglio provare a trasmettere è tantissima la cifra naturalmente non è poco ma l'auto in sé dovrebbe costare di più per quello che in teoria va ad offrire alla fine ma sai che potrebbe essere un punto a sfavore della roadster perché tu parlavi di flexing di mostrare i muscoli di mostrare quanto sei figo quanto te la puoi permettere eccetera il fatto che sia di un taglio che comunque diciamo 250.000 euro in pochi si possono permettere un'auto da 250.000 euro però tra quelli che si possono permettere un'auto da 250.000 euro e quelli che si possono permettere un'auto da un milione non c'è molta differenza nel senso in percentuale di popolazione tra quelli che se la possono permettere una diciamo che una buona parte si possono permettere anche l'altra quindi il flexing diventa un po' meno non so se mi sono spiegato nel senso che se tu vuoi far vedere che sei ricco hai capito la roadster è da poveri hai capito è questo il mio cruccio poi se vuoi far vedere che ti sei comprato un'auto che è la top di gamma per le performance eccetera eccetera allora lì siamo sul top chiaramente questo lo sappiamo però bisogna capire quanto sia la collezione e quanto sia pura espressione di caratteristiche tecniche cioè va capito secondo me quanto il prezzo vada a categorizzare questo veicolo in un mercato che forse non gli appartiene cioè la roadster non per forza deve essere la nuova ferrari da collezionismo che tutti si comprano per tenerla parcheggiata la roadster può essere invece quella vettura divertentissima come magari un porsche da 100.000 euro molto più costoso perché costa 250 ma con delle performance che asfaltano qualsiasi auto tu veda nei film anche per dire cioè quindi è più veramente un esercizio di stile di tesla come per dire a noi non ce ne frega niente tanto le nostre auto che vogliamo vendere sono quelle da 30.000 euro e adesso ci arriviamo ma intanto volete vedere la massima tecnologia tesla la massima espressione eccola là 250.000 se volete è là forse semplicemente è il massimo che si può fare ad oggi con un'auto elettrica fin dove possiamo arrivare ad oggi però questa cosa mi ha fatto venire in mente una provocazione a cui ho risposto nei giorni scorsi che vi giro nel senso che sempre in un post di facebook c'era qualcuno che ha chiesto perché era intenzionato insomma stava girando intorno all'oggetto del desiderio chiedeva quali sono le tre cose per cui vale la pena acquistare una tesla io vi dico cosa ho risposto io io ho risposto tecnologia sicurezza e one pedal drive sì cioè piacere di guida mettila come ti pare però probabilmente è in ordine diverso cioè probabilmente sicurezza e piacere di guida al primo posto e tecnologia subito dopo ditemi la vostra direi direi che sono molto allineato con te sicurezza e tecnologia è sicuramente al primo posto anche se quantificare la sicurezza è difficile ovviamente però quando tu pesi l'acquisto o chiaramente la pesi anche su questo e poi come come terzo tu cos'è che hai detto scusami piacere di guida tecnologia sicurezza piacere di guida e silenziosità insieme se io ne uso 4 si può usare 4 silenziosità sta dentro il piacere di guida se vai a vedere sì beh quello è vero ha incluso certo Andre tu puoi usare supercharger te lo concediamo te lo concediamo ma ormai non ha perso di valore una volta era 10.000 adesso è 2 euro è il costo del download sul telefono degli altri proprietari di auto elettriche no allora io comunque concordo con Ale anzi devo dire che ultimamente la sicurezza e tu dici Andre come faccio a quantificarla beh ragazzi in questo podcast qualche volta abbiamo parlato di eventi importanti che hanno coinvolto delle Tesla e che hanno per fortuna portato a superstiti e secondo me quelli sono già i 20 che bastano per chiarire bene le idee poi è naturale non è che sei in una in un bunker qualcosa purtroppo può sempre capitare però la sicurezza mi sta rubando e scalando posizioni forse è già al primo posto cioè se dovessi dire qual è l'auto più sicura da acquistare boh io ignorante ti direi ho una Volvo o una Tesla adesso poi non lo so se c'è il meccanico che la sa che dice no ma guarda la struttura di questa Ford è migliore però io ad oggi Tesla vuoi per le classifiche o rank up vuoi per anche in generale le altre classifiche mi dà sicurezza mi dà sicurezza primo secondo guidabilità guidabilità per me non ha sensi cioè è proprio qualcosa di magico è letteralmente non guidare guidare una Tesla è come non guidare cioè guidare una Tesla con calma è come non guidare guidare in senso come fatica non fai fatica certo soprattutto quando non la guidi tutti i giorni e la guidi ogni tanto come è capitato a me cioè ti accorgi guidando la normalità quanto in realtà sia lontano dal futuro che è Tesla cioè Tesla mamma mia ma ti migliora la vita se guidi tanto ti migliora la vita punto punto ma non perché ti fa andare veloce perché ti fa rilassare non ti fa stancare cioè è una bomba è una bomba e la tecnologia eh Ale ogni che volevo arrivare del facere di guida di Tesla parlano tutti di quanto va veloce del fatto che è elettrica di quanto tempo ci vuole ricaricare del fatto che c'è il pad grosso in mezzo ma nessuno parla della roba più importante io in questi giorni qua tra l'altro sto facendo una un'esperienza di questo tipo siccome ho un problemino da sistemare che è venuto fuori esattamente cinque giorni dopo la garanzia per la solita fortuna però è una robetta però di fatto è una cosa che siccome la macchina la rileva impedisce l'attivazione di autopilot e nonostante non stia facendo autostrada ma solo qualche tratto di superstrada mi girano a nastro perché il fatto di non poter usare autopilot dove sono abituato a usarlo cioè dove sono abituato a non guidare sostanzialmente e mi rendo conto non solo di quello ma poi mi dico penso che dovessi guidare una macchina ancora con le marce lascia stare lascia stare tu hai portato esatto tu hai portato la discussione ad un livello superiore cioè l'autopilot che per me è ancora qualcosa di più di più cioè è oltre ma già il salto tra marce ma anche motore a combustione e elettrico e frenata rigenerativa ma oh la frenata rigenerativa ma di cosa stiamo parlando c'è già quella roba lì è un'altra lingua è come se tu parlassi italiano e da un giorno all'altro parlassi arabo in maniera fluente cioè guidi una roba nuovissima bene con calma quindi ecco la tecnologia io da nerd che mi piacciono i telefonini quelle cose lì zero cioè mi interessa ma è talmente cioè è al terzo posto mi va bene ma è un terzo posto lontano dal secondo dalla guidabilità cioè su una tesla io mi concentro sulla godore della guida non sul sul tablet che mi fa zoomare la mappa o mi mostra le varie features che poi lo voglio sia un altro discorso nel senso che per me è la base adesso avere un'auto che sia uno smartphone su ruote su questo non c'è dubbio perché io gli aggiornamenti li voglio io gli aggiornamenti voglio che migliorino l'auto io voglio un'auto che tra un anno è più nuova di un anno prima anche sta roba cambia il paradigma ma evitiamo di addentrarci se no non usciamo più ma la classifica è così la guidabilità è troppo più in alto secondo me no però interessante sta cosa che della cosa più figa di sta macchina in realtà la massa non parla no no fatica a spiegargliela quando provi a raccontare perché è la prima cosa che mi viene da raccontare ma invece ti faccio l'esperienza poi è quella dopo tre anni scusa non avevo capito che stai definendo vai vai no ma volevo sapere cosa hanno risposto gli altri cioè se siamo più o meno tutti in linea o siamo noi tre che viviamo in una bolla che siamo tutti quanti d'accordo ci sono state delle risposte che non ti aspettavi ma non è che l'abbia poi seguito lo sviluppo quindi ho visto c'era solo qualcuno aveva già risposto però sì qualcuno mette le prestazioni però ragazzi siamo in un mondo dove la gente purtroppo vedo anche tante discussioni dove eh al volante mi si è affiancato quello l'ho bruciato io quelle cose lì proprio non me ne può fregare di meno perché l'unica volta mi è capitato alle 4 del mattino che in un'autostrada c'ero solo io e uno mi si attacca al culo e a quel punto lì sì che ho schiacciato e non l'ho più visto ma perché il mio pensiero è detto ma porca miseria ma mi devi venire o non per le scatole a me alle 4 del mattino per fare il fenomeno questa macchina fa quelle prestazioni lì perché non può non farle nel senso dovresti limitarla beh è già imitata così dovresti limitarla a bestia per è proprio un concetto diverso perché sono macchine che nascono su presupposti diversi che alla fine in comune con le altre c'erano solo che c'erano 4 ruote un volante per ora per ora tra l'altro mi si sta un po' sfaldando il volante adesso problemino sul volante no magari ecco chi ci ascolta metta nei commenti e dica cosa pensa se ha una Tesla cosa pensa del fatto le tre cose principali di averla ma se non ce l'ha perché magari la vorrebbe comprare certo è curioso come la facciamo internos va bene è interessante è interessante sempre interessante questo discorso del vero piacere di guidare una Tesla invece io vi voglio portare visto che parliamo delle vostre model 3 al fatto che sta arrivando project island sta arrivando e come perché voci a Shanghai si rafforzano intorno all'idea che la linea di model 3 stia un attimo calando anzi proprio la stiano bloccando sono state consegnate nella settimana che si è chiusa proprio qualche giorno fa il 30 di maggio 12.800 nuove unità che sono molto probabilmente solo model Y a questo punto e il dato interessante qual è visto che maggio si è concluso abbiamo i dati e siamo al record di sempre mi dispiace ripeterla sta frase però è record dopo i primi due mesi del trimestre cioè quindi considerando primo e secondo mese del trimestre sommati abbiamo il record di sempre ok in Cina non era mai stato fatto un numero simile raggiunto un numero simile ok siamo intorno alle 87.000 90.000 insomma basiamoci sulle 90.000 unità dopo due mesi manca giugno ragazzi manca giugno e questo è molto importante perché con giugno si può arrivare al miglior trimestre di sempre in Cina quindi direi direi assolutamente un numero che dobbiamo sempre tenere tenere d'occhio per il futuro perché ripeto Shanghai è il vero cuore di Tesla e lo ha dimostrato Elon che in settimana è andato là ha girato ovunque ha parlato con chiunque qualsiasi rappresentante politico che si occupi di urbanistica guidabilità delle auto e la transizione verso l'elettrico qualsiasi aspetto lui è andato là è andato anche a Shanghai naturalmente a controllare che le cose andassero bene e ragazzi questo secondo me è un evento cardine per l'arrivo della nuova Model 3 proprio è fondamentale questa visita è un po' come il sale of approval come si dice è la classica certificazione di Elon che va là e dice ok ragazzi possiamo venderla quest'auto prepariamoci nelle prossime settimane per me giugno è il mese è il mese di inizio produzione dice di annuncio e anche inizio produzione probabilmente sì anche perché ho visto un post scusa ho visto un post in settimana che parlava proprio di non tanto di Project Thailand ma dell'Hardware 4 che è parte di Project Thailand e c'erano delle foto e la cosa che delle telecamere in particolare perché ovviamente è quello che ci interessa maggiormente la disposizione sembrerebbe non essere cambiata quantomeno non sembrerebbe esserci quella chiacchierata camera frontale davanti nel muso della macchina che servirebbe appunto per completare diciamo la visione a 360 gradi o comunque per calcolare meglio le distanze sul frontale sembra più carina da vedere se quelle foto sono ripeto non ho modo di sapere se fossero reali o meno più oscurate quindi più carine da vedere però non sembra che ci siano dei cambiamenti così grandi come ci si potrebbe per certi versi aspettare questo non lo so non so come prenderlo poi vedremo se è verificato lo vedremo su altre vitture prima anche già sulla Model Y mi sembra la settimana scorsa io e Andrea avevamo proprio annunciato Hardware 4 ho fatto l'ascoltazione hai ascoltato bravo siamo stati bravi Ale siamo stati bravi tesori più che altro sarà curioso il tuo cruccio è per capire se hanno risolto in altre maniere i problemi che abbiamo raccontato nelle scorse settimane riguardanti il parcheggio e quindi i vari sensori o per curiosità in generale è che la disposizione delle telecamere impatta anche su quanto le nuove versioni di autopilot saranno fruibili sulle vecchie auto magari con minor precisione beh certo perché se la disposizione delle telecamere è radicalmente diversa a un certo punto avrai una fork dal punto di vista di programmazione beh non è detto che comunque non ci sia a livello anche se la posizione è uguale potrebbe essere che le telecamere nuove montate hanno un angolo di visione tale da essere totalmente diverso da quello attuale quindi insomma ti impone diciamo che se fossero radicalmente posizionate in modo diverso sarei sicuro così non si sa di preciso potrebbe essere potrebbe non essere però diciamo che qualche modifica me l'aspettavo più in effetti più però magari come abbiamo già detto mille volte nessuno ha più dati di loro quindi sanno esattamente quello che stanno facendo io vedo tanti che dicono che sul discorso parcheggio le cose sono migliorate molto addirittura ho visto qualcuno che dice che ha la macchina col sensore come la nostra e che gli ultimi aggiornamenti gli hanno disabilitato l'uso dei sensori tant'è che facevano vedere delle immagini dove mettevano qualcosa attaccato alla macchina la macchina segnava 40 cm non riesce a calcolare quindi hanno disabilitato i sensori ma questa è una però al momento nell'uso quotidiano non mi pare adesso deve arrivare un aggiornamento che in roll out che tra le altre cose va a sistemare quella cosa dei caratteri anche per la lingua italiana meno male 10 giorni prima della mia operazione agli occhi vai aspettassero dopo però non so io mi augurerei che i sensori che ci sono continuino a funzionare così per non sbagliarsi ecco perché ho già preso abbastanza sbocciate già così di mio e tra l'altro restando in tema software Ale ho visto che hai trovato questa informazione riguardante la versione 11.4.2 che è un aggiornamento che nasconde alcune chicche mi sembra per i tergicristalli ho sbaglio pare che non mi ricordo praticamente è un miglioramento di un punto 1 che è passato da a punto 2 cioè era la 11.4.1 è diventata 11.4.2 e uno dice cambia poco e invece no c'è qualcosa di sostanziale e sto riportando le parole di green the only sempre lui sì ma era l'opzione deep rain che ora potrebbe essere disattivabile però la cosa fondamentale di quell'aggiornamento diciamo ghost cioè non dichiarata quantomeno come funzionalità è la frenata automatica d'emergenza che ora dovrebbe entrare in funzione anche per i voicoli che tagliano la strada mentre prima solo era un discorso di collisione frontale questo pare usiamo sempre il condizionale perché è sempre meglio della condizionale che si sa mai però e poi c'era una modifica per chi usa la beta di full self driving negli Stati Uniti che in caso di sospensione perché magari non rispettano propriamente le regole gli sospendono il full self driving non per una settimana ma per due esatto siamo arrivati al livello della bacchettata tipo sei in punizione per due settimane adesso aspetta il sedile che diventa rovente cosa di questo tempo tortura proprio puoi usare l'aria condizionata per due settimane poca miseria e sterzare solo a destra per tre giorni ma no però però è affascinante come venga citata la versione 4 dei terci cristalli automatici va bene cioè versione 4 vabbè sicuramente miglioreranno ecco questo perché non è migliorare sono migliorati sicuramente scusa dicevi giustamente che sono migliorati da tantissimo da quando l'abbiamo preso noi cioè all'inizio facevamo veramente schifo e adesso devo dire che problemi ne riscontro veramente ben pochi quindi per me va bene però siamo la versione 4 e poteva essere la versione 1 1 con un semplice sensore giusto per fare un piccolo reality check esattamente sì quella è una cosa che è un po' come quella dei sensori cioè alla fine la mia preoccupazione che avevo già espresso un po' di qualche decina di puntate fa è che sono tutte cose che vanno a chiedere risorse alla CPU che potrebbero essere lasciate libere per autopilot tutto lì e che alla fine non è che dai in qualcosa di più perché alla fine il tergis di cristallo funziona bene o funziona male non è che può fare che ti può impastare una pizza un tergis di cristallo voglio dire beh quello fa no poi per esempio invece gli abbaglianti ora funzionano benissimo sbagliano un colpo a morire i tergis di cristallo sì a volte anche a me capita ancora di di rabetta senti li spengo perché non piove diavolo cosa diavolo vi accendete specialmente quando parti no che la macchina magari che ne so magari un po' di di sporco che ne so partono e vabbè tanto dice oggi è una giornata che non è solo li metto in off e risolvi da quel punto di vista lì vabbè sì sì interessante interessante l'approccio tesla non lo scopriamo oggi e penso non lo scopriremo mai neanche in futuro detto questo una notizia importante Ale che hai trovato è che ritornando al discorso di un eventuale model train arrivo in futuro tesla ha deciso negli stati uniti per adesso solo là di tagliare i prezzi ma non sul nuovo cioè o meglio non sul configurabile giusto eh ma si solo con quello che hanno in pancia diciamo però questo potrebbe voler dire che ti fanno ordinare una macchina e a un certo punto ti arriva una mail e ti dice guarda è la versione nuova oppure non te lo dico come di solito quando sono cose che devi accettare in payus tipo il discorso dei sensori ti arriva la mail ma se ti arriva il modello nuovo che è meglio in tutto difficile che qualcuno non sia contento e quindi la la prendono la prendono così quindi non si sa sicuramente è la classica mossa che fanno tutte le aziende quando devono liberare il magazzino no bassi il prezzo del modello prima è come quando la settimana prima che esca l'iPhone nuovo inizia a calare di prezzo quelli precedenti insomma domani aspetto di vedere il visore chiuso a parentesi ecco è vero è vero ma questo taglio dei prezzi in realtà porta a dei nuovi target price interessantissimi per le Model 3 perché in sempre negli Stati Uniti si qualificano anche le auto in inventario di Tesla Model 3 per la l'incentivo da 7500 dollari ok va bene quindi abbiamo i 7500 dollari più più alcuni incentivi locali nello stato di riferimento e questo fa crollare il prezzo di una Model 3 base ma crollare una Model 3 RWD in Vermont è uno stato del Vermont costa 26.320 dollari con tutti gli incentivi applicati ok quindi siamo arrivati a quella cifra lì negli Stati Uniti se uno volesse non aspettare e comprare una vettura con diciamo qualche niente nessun problema alla fine cioè è un'auto nuova beh valutate voi questo per tornare sempre in prospettiva potrebbe voler dire che tra qualche anno quando la stessa sorte capiterà al passaggio dal vecchio al nuovo modello di un eventuale Model 2 chiamiamola come ti pare potresti vedere delle robe tipo che a 15.000 dollari porti a casa una Tesla però però sì però sì cioè sono cifre che sono assurdamente basse se pensiamo al mercato americano cioè il potere di acquisto di un americano in teoria è superiore ok e queste sono cifre proprio finite proprio comprese anche le tasse non è che vanno applicate qua stiamo parlando già degli stati precisi quindi mi sembra che siano definitive credo siano definitive ma immaginatevi una roba del genere in Italia che già ci scandalizziamo se vediamo una Model 3 a 38 a 37 mila euro ma proprio stappiamo le bottiglie proprio da capodanno qui qui siamo a un livello che in Italia probabilmente spaccherebbe il mercato perché in Italia invece il potere di acquisto è inferiore e il cambio di prezzo è sentito 10 volte secondo me rispetto all'America e l'America lo sente perché sappiamo che gli americani negli Stati Uniti sono degli spendaccioni hanno il Black Friday hanno tutte queste queste spinte al comprare allo shopping forse nato quasi irregolare proprio in Italia molto più cauti teoricamente beh sta roba qua spaccherebbe tutto ma tutto non so purtroppo non c'è in Italia eh non c'è purtroppo non avrei comprato una per andare a campi come si diceva una volta qui si comprava le panda usate per andare a fare rally sui campi non ho mai visto nessuno fare sta roba qua però questo era il il sentore no comprare una macchina un po' da battaglia a 15.000 sarebbe cioè fulgorante non credo che credo che vedremo solo Tesla in gelo a 30.000 già già ci sarebbe una spinta enorme secondo me in Italia ma veramente enorme non credo che non credo che ci sia proprio scelta a quel punto già adesso quando ti metti giù fai i conti vedi cosa ottieni per i soldi che spendi capisci a 30.000 difficilmente neanche ti devi mettere giù questo è il discorso neanche ti devi impegnare a fare i conti secondo me sì vai vai un giorno andavo sullo scenario in prospettiva sai che a me piace cercare di capire cosa succederà no e mi dicevo queste macchine andando avanti costeranno sempre meno in generale le auto elettriche cioè ottimizzazione dei processi produttivi e quindi il prezzo calerà rispetto a quelli a cui siamo abituati allora cosa cosa succederà succedere due cose una che come succede ora per i cellulari a un certo punto le aziende per far margini per vendere devono trovare il modo di fartela cambiare quella macchina come cercano di farti cambiare il cellulare e quindi io per esempio ho un contratto prendo un iphone ricondizionato ogni gennaio e ogni gennaio io pago sempre il solito canone e mi arriva il telefono nuovo ok e quindi quello poi viene messo in vendita come ricondizionato eccetera eccetera altrimenti l'altra l'altra soluzione è guadagnare su altre cose e farti durare di più la macchina perché sono macchine che teoricamente se costruite in un certo modo a livello di meccanica possono durare tantissimo tantissimo come dei frullatori quando dicono a volte eh hai comprato la lavatrice il frullatore sì è come un frullatore però quando mi dicono l'hai fatto tagliando ma te glielo fai tagliando al frullatore no eh vedi neanche io lo faccio alla macchina bella questa però cioè st'azienda è vero cambierà lo scenario aziende spariranno sicuramente aziende nuove arriveranno aziende che ora fanno altre cose in ambito tecnologico faranno macchine sicuramente molte arriveranno dalla Cina sicuramente però il il modello di mercato quale sarà in un mondo consumistico perché di quello noi viviamo o cambia il modello di società o eh tenderanno a fartela cambiare più spesso che possono quella macchina beh tieni presente che abbiamo già un modello di pagamento mensile dentro Tesla che è quello della come si chiama connettività no la connettività premium se tu ci pensi quello è il primo esempio sono nove euro se non sbaglio al mese una cosa di questo tipo e comincia a moltiplicarlo per decine di migliori di veicoli comincia a essere un bel ingresso ogni mese non credo che paghino nove euro Tesla al mese al provider di connettività quindi il margine lì credo sia molto alto poi abbiamo parlato molte volte di autopilot che potrebbe anche lì entrare in funzione o meglio entrare in vigore un metodo di pagamento mensile quindi un un noleggio un abbonamento e secondo me ci sposteremo come è successo per i software online a un SAS cioè software as a service e qui avremo il VAS quindi vehicle as a service e avremo tutti questi bei meccanismi dove ci spillano dei soldi al mese per te riempiti la baracca perché come dici tu effettivamente potrebbe accadere quello scenario sì credo che sia la cosa più semplice alla fine perché potresti avere gente che compra la macchina per magari fare appunto il discorso di servizio taxi con autopilot eccetera eccetera però Tesla potrebbe avere un flusso costante di denaro da un lato è vero che esiste un qualcosa di simile con i leasing però non è la stessa cosa cioè lì si parla di pagare un canone magari dopo due anni ti danno la macchina nuova e quella viene venduta a qualcun altro o affittata a qualcun altro a un prezzo inferiore perché ha qualche anno di più e pensa sulla stessa macchina quanti soldi può farci Tesla magari comprendi anche la manutenzione cioè già il fatto è che vogliono credo ci siano già questi meccanismi per altre cacce produttrici dove tu paghi un tot e ti danno la manutenzione che poi l'hai pagata ma ti danno proprio la manutenzione gratuita ma di solito usufruiscono di compagnia assicurativa io invece Tesla che sta già facendo l'assicurazione RC Auto per cosiddetta RC Auto per in America si chiama in un'altra maniera però per i propri clienti io me la immagino a integrare proprio dal punto di vista verticale io ti do la macchina tutto compreso magari comprese anche le ricariche magari compreso o meno l'autopilot e tu sei in quel mondo un po' modello Apple ma al cubo no dove stai bene ma da qui è difficilissimo uscire senso no ha perfettamente senso ha perfettamente senso e per tornare al tuo discorso iniziale si abbasseranno i prezzi e si sposteranno forse il termine corretto è spostarsi su altre cose ma non stupiamoci è una cosa che anch'io tendo a rimarcare con gli amici attenzione perché l'idea che abbiamo oggi dell'auto in termini di prezzo in termini di costi in termini di valore tanti valori tanti dettagli ecco secondo me in futuro verrà stravolta travolta esattamente come un computer immagino degli anni 80 avesse un certo valore e oggi in realtà non hanno poi così tanta tanta tanto valore tanta così rarità in vari vari dettagli ecco che oggi sono cambiati riguardante riguardanti un mercato che una una volta sembrava fantascienza sembrava esclusivo oggi no oggi così non è quindi bene bene prepariamoci a una model 2 da partire da 13.000 euro così bene però visto che Tesla ne vuole vendere è stato cambiato anche il referral program in America mi sembra ma non solo probabilmente ok quindi model X model S ti fanno guadagnare 20.000 crediti invece di 3.500 anche in Italia e allora cari amici cari ascoltatori convincete vostra zia a comprare una model X una bella model S plaid da andare poi al nur burning esatto ovviamente usando il FLR del podcast che trovate in descrizione naturalmente lo diamo per scontato lo diamo per scontato 20.000 crediti invece che 3.500 direi che insomma se consigliavate e referravate inventato sto verbo una 3 o una Y 2.000 crediti una X e una S 3.500 insomma non mi sembra proprio che abbia la stessa difficoltà ecco consigliare una model 3 rispetto a una model X o una model S di conseguenza giusto l'aumento che non sia magari un modo per cercare di svuotare model S e model X che forse forse sono sulla via del tramonto come fanno intendere in Australia dove non le venderanno più con la guida a destra chi lo sa no soprattutto i Raffaeller per la Roadster non li mettono no quanti punti mi dai per la Roadster scusa arrivano a casa 300 Tesla Kila anche il Cybertruck giustamente è fuori anche il Cybertruck ha il suo perché perché me lo tieni fuori da vabbè un attimo è una cattività che ha fatto a Snuggle esatto calma calma ragazzi calma però sai che la Roadster la farei comprare con i crediti c'è tipo un milione di crediti e puoi comprare una Roadster nello shop Tesla tra la magliettina la gomma per cancellare a forma di Cybertruck una Roadster 2 da 250 mila dollari ci sta ma tecnicamente ci sono delle persone che hanno diritto al Roadster grazie a fare il programma poi quando gli arriverà ancora non si sa però c'è ci sono delle persone che ce l'hanno ma quella arriva sicuro cioè nel senso se non arrivasse sarebbe scandalo tale immagino sarebbe sarebbe al limite della truffa credo visto che insomma ah ok ok vabbè staremo staremo a vedere come si svilupperanno le cose tra l'altro se non avete nulla da aggiungere io darei la parola a Andrea Baccega perché finalmente abbiamo raggiunto un 10% attenzione attenzione allora notizie di questa settimana del whistleblower che nessuno ci accusi allora no prima whistleblower vai Ale allora praticamente è venuto fuori che un giornale tedesco ha pubblicato il fatto che sono stati trafugati pare da questo whistleblower che è stato denunciato da Tesla per un furto di dati adesso non so se si sappia chi è stato comunque 100 giga di dati riguardanti problemi ad autopilot e a cose riguardanti la sicurezza delle Tesla ovviamente non se ne sa molto di più probabilmente si scoprirà più avanti a me viene da dire ma non per difendere Tesla perché se c'è qualcosa che non va ovviamente è bene che venga fuori ma io credo che siano semplicemente dati come Tesla raccoglie dati da tutto il parco circolante cost break oppure qualsiasi tipo di dato a far 100 giga ci vuole anche poco sinceramente specialmente se ci fossero i video perché se ci sono i video delle telecamere delle macchine a far 100 giga ci metti niente quindi la notizia è questa prendiamola con le pinze la seguiremo ovviamente e niente andiamo per dovere di cronaca c'è anche da dire come dice Beltesor giustamente in chat che bisogna vedere qua la recentezza di questi dati nel senso magari sono dei report di malfunzionamenti chiamiamoli malfunzionamenti ma di cose strane che sono successe con autopilot inserito che però fanno riferimento a delle vetture con una versione di autopilot che ormai è vetusta dovrà essere roba dell'anno scorso per quanto ne sappiamo e quindi magari sono dei dati che hanno una sì un certo tipo di rilevanza perché sicuramente se Tesla si è mossa anche a livello legale il motivo ci sarà però magari non ha molta rilevanza rispetto a quello che abbiamo attualmente installato nelle nostre vetture perché ormai è superato superato diciamo tecnologicamente il problema ci sta poi lì si parla di 2400 accelerazioni senza preavviso 1500 problemi di frenata 139 casi di frenata di emergenza involontaria 383 segnalazioni di arresti improvvisi ora io per esempio c'è stato i primi tempi ma anche fino forse un anno fa cioè quando facevo una certa superstrada qua in zona la macchina a volte non capiva se doveva prendere lo svincolo o continuare sulla cosa io cosa ho fatto ho segnalato il bug a Tesla no poi la macchina ora non lo fa più non credo che sia per la mia segnalazione ma probabilmente quella mia segnalazione è finita in quei file non so come dire cioè che era una scemata quindi può essere tutto può essere una roba gravissima ma francamente guidandola la Tesla non è che abbia la sensazione di guidare qualcosa di pericoloso può essere niente nel senso che possono essere tante segnalazioni come è normale che gli arrivino in un sistema che ricordiamolo è un sistema beta che è in beta quindi per definizione ha una serie di processi per migliorarlo in continuo e parliamo ormai di milioni di macchine che girano quindi se fosse anche recente come tutte le volte che esce la notizia autopilot assassino poi si viene fuori che alla fine era pilota pirla semplicemente credo che sia dovere a un certo punto di Tesla far chiarezza ecco tutto lì assolutamente bene quindi il whistleblower l'abbiamo whistleato vai allora questa settimana è uscito un grafico interessante per quanto riguarda l'adozione delle EV a livello globale in percentuale quindi quante auto circolanti solo batteria sono in percentuale rispetto al totale faccio un esempio dovessimo prendere Jeslo facciamo finta casa mia se ci fossero mille auto circolanti e cento fossero elettriche sarebbe un 10% di auto elettriche circolanti ebbene siamo arrivati al 10% l'esempio era fatto apposta ci siamo arrivati anche in un momento che storicamente solitamente non è il massimo perché il Q1 di solito il primo quarter del primo trimestre vede una piccola flessione storicamente per quanto riguarda l'adozione delle auto elettriche quindi evidentemente nel primo trimestre si vendono più auto termiche rispetto a quelle elettriche quest'anno c'è stata un'inversione di tendenza e la cosa interessante è che il grafico parte dal Q1 2019 che riportava un 1,6% di penetrazione del mercato per quanto riguarda le auto elettriche circolanti siamo arrivati al 10,1% il che vuol dire 6x rispetto al 2019 stesso periodo 2019 la grande accelerata lo vedo sempre dal grafico che vi racconto è stata fatta nel 2021 che siamo passati dal Q1 che riportava un 3,7% a un Q4 che era l'8,7% quindi un balzo abbastanza importante direi bene tutto il mondo stiamo parlando di tutto il mondo non stiamo parlando di America Europa tutto il mondo bello uno su dieci bello se fossimo nella perfetta media vorrebbe dire che una macchina ogni dieci che vedete passare teoricamente dovrebbe statisticamente dovrebbe essere elettrica ovviamente è sbilanciata in alcuni paesi verso una parte e sbilanciata verso l'altra in altri però insomma questo dovrebbe essere statisticamente però qui stiamo parlando di vendite delle vetture immagino no no adozione per me adozione vuol dire adozione potrebbe essere vendite effettivamente il 10% delle vendite una su dieci perché market mi dà idea che forse stiamo parlando del trend globale perché faccio fatica a pensare oggi a già una diffusione del 10% perché si si hai ragione ho letto meglio un'auto su dieci oggi venduta è elettrica siamo arrivati al 10% così ha senso perché altrimenti il 10% vorrebbe dire distruggere tutte le auto presenti fino ad oggi non elettriche perché comunque numericamente sono troppe e stanno comunque vendendo purtroppo ancora di più delle elettriche quindi quello è un problema il fatto invece che adesso si vada verso un 10% è molto interessante e vi dirò di più secondo me è incredibile la crescita che vedremo nei prossimi due tre anni massimo cioè passeremo da un 10% a un 40 ma anche 50 non ho paura a dirlo esattamente nei prossimi quanti dici? 2-3 anni di vendita 50% 2-3 anni allora in 2-3 anni una persona su 2 compra un'elettrica ma minimo 2-3 anni 2025 2025 2026 eh sei già 4-5 qua 2-3 anni siamo nel 2023 2-3 anni cosa vuol dire? giusto c'hai ragione no però guardate 2020 eravamo all'1.8% nel 2020 nel 2020 adesso nel 2023 siamo al 10% lo so che è diverso quintuplicare un 10% rispetto a un 2% ma io sono fiducioso ma sai che anche no sai capisco che effettivamente passare dal 10% al 50% sembra più difficile ma io la vedo molto parabolica nel senso esponenziale inizialmente secondo me avremo un grande boom e poi magari si appiattirà un pochino verso magari 60-70-80% sì anche secondo me sì e è interessante vai Ale vi faccio una domanda perché questa cosa qua io la collego molto anche ai ragazzi giovani perché chiaramente uno qua che ha una persona di 60 anni che ha guidato tutta la vita diesel non è facile farlo passare all'elettrico un giovane prima macchina nelle scuole guida stanno insegnando come funziona l'auto elettrica come si ricarica cos'è un kilowattora cos'è un kilowatt cioè i concetti di base che noi ci siamo imparati da soli le differenze meccaniche le differenze di efficienza eccetera eccetera io non ne ho idea perché non vado in una scuola per un po' di tempo ma sarebbe l'ora di farlo questa è una bella domanda ma tra l'altro ne avevamo già parlato avevo tirato fuori anche il famoso libro dell'autoscuola che sì è vero ce l'ho ancora lì tra l'altro bene con tutte le domande che tecnicamente sono vere per l'auto termica ma che non sono vere per l'auto elettrica è vero ve ne faccio una a caso tipo spegnere il motore al semaforo riduce l'inquinamento vero per l'auto termica boh per l'auto elettrica perché perché non si spegne esatto quale spegnere è bello ma andre qua se lo devi fare il video parte tutto oppure devi prendere in mano la situazione andare in ogni singola scuola guida e fare la classica intervista modigliene ma voi insegnate anche informazioni riguardanti le auto elettriche perché è incredibile sta roba però però è vera questa è una domanda giustissima Ale giustissima è assurdo che uno non sappia cosa sia un kilowattora cioè se ci pensate io mi ricordo quando ho fatto scuola guida io ti insegnavo come funziona pistone ma metterò mai le mani in un pistone no quindi mi serve perché so come funziona la macchina benissimo tra l'altro se ci pensate insegnare come funziona un'auto termica metti che ci vogliono 50 pagine per insegnare come funziona un'auto elettrica probabilmente ce ne vogliono tre oddio attenzione perché se tu mi parli di pistoni non vorrei che poi ti insegnino cos'è un inverter come mettere le mani sull'inverter cioè non si sa mai qua in Italia allora devi imparare anche a programmare l'autopilot eh sì 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 cioè è un perché chiedono che se tu fai a scuola guida guidi una macchina termica ti spiegano come funziona un'auto termica poi esci e vai a comparti in elettrica è difficile è assurdo è assurdo cioè è completamente cioè sembra sembra una battuta ragazzi ma è assurda sta cosa cioè non è come andare a scuola e spiegarti come non lo so non funziona così però ti insegnano come si usa il Nokia 3310 e poi tanto devi usare un iPhone cioè è letteralmente cioè questo è il distacco è il divario tecnologico è di questo livello poi in entrambi i casi devi telefonare ce la fai con uno ce la fai con l'altro con l'auto devi guidare volante guidi tu e va bene ma lì è la roba pratica a livello teorico sull'auto non sulla segnaletica ma che cosa cioè è assurda sta cosa non lo so ragazzi salutiamoci con questo dilemma se qualcuno ha notizie in merito perché adesso magari lo stanno facendo lì non è che poi una scuola guida decide per i fatti suoi sono delle linee guida di qualche ministero anche ministero dei trasporti immagino e quindi non decidono niente a maggior ragione a maggior ragione sarebbe da sviluppare questo discorso dovremmo arrivare al contrario al giorno d'oggi dovrei spiegare magari forse di più l'auto elettrica che è il futuro e il presente che non l'autotermica che è destinata a morire ho le basi per entrambi giustamente finché siamo in un periodo di transizione mi insegni magari chi se ne frega del pistone droppi un attimo quella roba lì però invece di fargli fare mezz'ora di guida in autostrada gli fai fare una volta gli fai fare benzina che io sinceramente non ho mai fatto benzina poi la sapevo fare perché avevo il motorino è una cosa che ti insegnano magari amici eccetera mi sembra anche giusto che un'autoscuola ti insegna a fare benzina e ti insegna anche a caricare l'auto elettrica perché sono cose che effettivamente poi ti servono nella vita di tutti i giorni cambiare un pistone mi sembra un po' difficile che ti sceglie la vita di tutti i giorni e un'altra domanda adesso io prima scherzavo sulla guidabilità però tornando a quello che abbiamo detto all'inizio puntata prova pratica perché non su una elettrica e salta fuori il problema per la questione del codice armonizzato UE78 in poche parole le elettriche hanno il cambio automatico e quindi non va bene fare il test senza il cambio manuale ok vabbè ok però attenzione perché la guida cambia sull'elettrica in meglio e anche lì per un neopatentato secondo me va subito indirezzata la situazione cioè va subito chiarito che questa auto la puoi guidare così quest'altra la devi guidare cos'ha ci sono tante variabili eh vado bello potrebbe essere una categoria di patente no tu hai imparato a guidare l'auto elettrica si puoi guidare l'auto elettrica probabilmente è la cosa migliore ci sono mille cose è che mi sembrano che la burocrazia vada sempre più molto troppo più lenta della realtà si ma a livello mondiale non per forza una critica italiana cioè in questo caso mi sembra mondiale mondiale sicuramente noi siamo campioni del mondo però sì sicuramente sì Andrea compito per la prossima settimana chiedere all'amico norvegese se nelle scuole guida informano già l'avevamo già chiesto mi pare aveva detto che non c'è la granché neanche lì ok però magari comunque non insegnano i pistoni che sarebbe già una cosa interessante e però fanno fare altre cose insomma che però qui non abbiamo ecco ti regalerò un pistone la prossima volta che ti va bene dai ragazzi buona settimana salutiamo una settimana state bene o forse sì o forse no non si sa perché adesso poi ci organizziamo vediamo vediamo io tra l'altro lo sapete tra dieci giorni mi opero quindi quella dopo non so come sarà ridotto se mi arrivo come still wonder però diventa difficile va bene ciao ragazzi ciao domenica ciao 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 ciao